Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale. Ragazzi, non so se avete sentito l'ultima novità presa dalle federazioni, dalla FIFA e dalla UEFA. È veramente uno schifo. Ragazzi, è uno schifo. La prossima stagione sarà veramente uno schifo per un cazzo di mondiale in Qatar da fare a dicembre. Sarà una stagione veramente tutta organizzata in un modo scandaloso. Ragazzi, si parte il 12 agosto con la finale di Supercoppa italiana. Uno schifo, proprio senza parole. Il tempo neanche di fare le preparazioni per le squadre di calcio. E addirittura vi dirò di più. Tra il 14 e il 31 agosto giocheranno quattro giornate di campionato. Con giornate di 30-40 gradi devono entrare in campo a giocare certe partite. Solo che va contro lo spettacolo calcistico. In un periodo dove bisogna fare preparazioni, amichevoli per entrare in condizioni, no. Noi dobbiamo fare quattro giornate di campionato tra il 14 e il 31 agosto. Uno schifo, una rovina del calcio. Gira ormai tutto solo intorno ai soldi. Non frega un cazzo a nessuno. Il discorso di sto mondiale in Qatar veramente inizia a starmi sulle palle. E poi, ragazzi, vi dirò di più. Tutto questo, per poi fare la sosta delle nazionali, dalle 19 al 27 settembre. Questa è la grande organizzazione FIFA, UEFA e tutte le varie federazioni che stanno in silenzio, non battono i pugni e non si fanno sentire in questa situazione. Veramente uno schifo in modo di gestire il calcio ridicolo, in modo incompetente e in modo non corretto verso le società e soprattutto i calciatori, che devono comunque fare una preparazione. Poi anche per questo durante l'anno ci sono tanti infortuni, i giocatori rendono poco, perché le preparazioni vengono fatte a minchia, perché le partite vengono fatte a minchia. Bisogna giocare sotto 40 gradi, poi settembre che è un po' più fresco invece dal 19 al 27 facciamo le soste per le nazionali. Questa è la nostra FIFA e UEFA, cari ragazzi. Veramente uno schifo. Sono veramente indignato da queste scelte calcistiche fatte da poteri come FIFA, UEFA e, ripeto, federazioni che stanno in silenzio. Sono veramente schifato. Ragazzi, ci vediamo più tardi. Vi raccomando, iscrivetevi al mio canale, clic, clic, clic. A dopo e sempre, forza vecchio cuore, rosso-nero.